Un tifoso dello Spezia sputa verso Sarri termine della partita con la Lazio. Roma che l'ambiente al picco sarebbe stato caldo lo sapeva, tanto da mettere in guardia la sua Lazio alla vigilia della sfida poi vinta 3-0 contro lo Spezia. Ma la realtà ha forse superato le preoccupazioni di Maurizio Sarri che durante l'anticipo della trentesima giornata di Serie A, preceduto dagli scontri tra le due tifoserie fuori dallo stadio, è stato letteralmente bersagliato dal pubblico ligure. Prima la birra, poi lo sputo si è andati ben oltre agli insulti nello stadio Spezino. Dove la tribuna è vicinissima alle panchine e sull'allenatore bianco celeste è piovuto di tutto. Come hanno mostrato le immagini trasmesse da Dazn, prima gli è stata lanciata addosso una birra. Poi al termine del match un tifoso gli è sputato addosso per poi dileguarsi velocemente. Un gesto che non è sfuggito però all'occhio delle telecamere. Virgola.